Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video dato che avevamo già sperimentato per tutto il 2019 delle pasture create da noi messe a confronto con delle altre tipologie di pasture vendute già preconfezionate e alla fine di tutto il 2019 e all'inizio di questo 2020 abbiamo trovato un po' una ricetta che più o meno racchiude tutte le informazioni che abbiamo ricavato durante tutto il 2019 e abbiamo creato questa ricetta per creare questa pastura che può essere utilizzata sia nei sacchettini in PWA che in qualsiasi altra tipologia di pasturazione è invece meno adatta per la pastura a method quindi dobbiamo studiare un'altra tipologia di pastura per usarla a method detto questo passiamo alla realizzazione della pastura in cui io vi elencherò tutte le varie componenti della pastura stessa allora partiamo con la realizzazione di questa pastura le componenti sono molto semplici che abbiamo studiato appunto per creare una pastura che fosse molto attiva nell'immediato quindi che riuscisse ad attirare i pesci nel breve tempo che è più o meno la maggior parte delle pescate che abbiamo noi di solito a disposizione quindi come base più importante che è quella un po' che fornisce alimento al pesce quindi che fornisce la parte proteica della pastura è la farina al pesce una farina al pesce molto fine molto forte e carica di aroma che poi andremo a pesare nei giusti dosaggi poi come seconda farina sempre che fornisce quindi alimento al pesce come seconda componente abbiamo questa farina alle spezie con vari piccoli semi all'interno quindi abbiamo una base di pesce e spezie della nostra pastura e a questo punto andiamo a crearci la componente che dà volume alla nostra pastura quindi andiamo ad inserire una percentuale di pan grattato per fornire anche alla pastura una granulometria più grossa quindi andremo ad inserire una percentuale di pan grattato e andremo anche ad inserire una percentuale di farina di mais o polenta questa sempre di una granulometria media comunque abbastanza grossa per dare volume alla nostra pastura quindi poi per andare ad arricchire ancora di più la nostra pastura andremo ad inserire altri semi piccoli quindi una tipologia di semi di questa tipologia molto fini che non vanno ad intaccare la solidità la compattezza della nostra pastura poi per completare come sapete tutti possiamo andare ad inserire o sale o zucchero in questo caso noi utilizziamo del sale fino ovviamente perché più fino è meglio è nella pastura a differenza di quando andiamo a creare degli stick mix o magari andiamo a utilizzare delle granaglie in cui magari utilizziamo del sale grosso quindi bene o male queste sono tutte le componenti che andremo ad utilizzare per la nostra pastura ora per semplicità noi non andiamo ad inserire un terzo elemento che ossia le tiger precotte tenute ad essiccare e macinate frullate fini andate ad inserire appunto nel mix che andremo a creare quindi in questa nella creazione di questa pastura non andremo ad inserire le tiger ho acceso la luce per appunto farvi vedere meglio tutta la creazione della pastura ora andiamo a pesare le varie componenti e vi spiegherò andiamo a prendere la bilancia la accendiamo mettiamo su il nostro contenitore facciamo la tara e andiamo ad inserire la prima componente che è la farina di pesce ne andiamo ad inserire abbastanza arrivando comunque sì sui 100 grammi proprio perché non è la componente principale della nostra pastura quindi come vedete 100 grammi più o meno di pastura al pesce la andiamo a trasferire nel nostro contenitore in cui andremo a fare la pastura quindi la prima componente che è la farina di pesce l'abbiamo messa poi in minor quantità andiamo ad inserire la nostra pastura alle spezie ne andiamo ad inserire una minore quantità rispetto a quella di pesce di solito noi ne andiamo ad inserire un 25 barra 30 grammi proprio perché c'è grande presenza di semi a questo punto la prendiamo e la inseriamo sempre all'interno del nostro mix arrivati a questo punto vedete che c'è una percentuale di farina di pesce e una percentuale di farina di spezie a questo punto andiamo a togliere il piattino e la bilancia e io consiglio sempre di andare a mescolare ogni qualvolta si va ad inserire una parte nuova di tipologia di farina quindi la prima parte del mix è completata ora noi di solito creiamo poca pastura per volta quindi un 200 300 anche di più andiamo a creare un circa mezzo di pastura rimettiamo da parte il nostro secchio con la prima parte di pastura riprendiamo la nostra bilancia e il nostro piattino per pesare a questo punto andiamo ad inserire la componente principale della pastura in sé per sé ovvero la farina di mais o polenta e andiamo a mettere circa 200 grammi quindi ora abbiamo anche esagerato 210 ma va bene comunque con la pastura si può anche leggermente sforare con le dosi quindi abbiamo i nostri circa 200 grammi di polenta a questo punto andiamo anche questa a metterla dentro il secchio dove andiamo a mischiare la pastura e come ho detto prima andiamo a mischiare il tutto allora prendiamo sempre la nostra spatola e andiamo un po' a mischiare per farla il più omogenea possibile ecco a questo punto che la nostra prima parte è completata mischiata perfettamente andiamo a procedere ad inserire le altre parti quindi riprendiamo la nostra solita bilancia mettiamo il piattino a questo punto andiamo ad inserire il pangrattato abbiamo fatto già circa un 350 grammi meglio 325 grammi di pastura andiamo ad inserire 75 grammi di pangrattato sempre in minor dose perché comunque il pangrattato è una una componente di granulometria abbastanza grossa quindi andiamo ad inserire 75 grammi ok quindi 75 grammi di pangrattato ce le abbiamo e le andiamo ad inserire dentro la pastura a questo punto la parte in cui dovremo inserire le farine le dovremo pesare è completata andremo a mischiare ora il tutto andremo ad inserire il sale e verrà una percentuale di di mix sui 400 grammi come vi ho detto per fare un mezzo chilo di pastura andremo ad inserire gli ultimi 100 grammi appunto di tiger spappolate quindi tiger cucinate mi raccomando cucinate bene tenute ad essiccare per un po' di tempo e poi frullate nel frullatore mi raccomando molto fini e andremo ad inserire quei 100 grammi dentro la pastura ora andremo ad inserire le ultime due componenti della pastura ovvero i semi e il sale dopo appunto aver mescolato la pastura ok a questo punto abbiamo mischiato per bene la nostra pastura andiamo ad inserire i nostri semini mi raccomando non tanti proprio perché i semi essendo più grossi vanno ad intaccare la compattezza della nostra della nostra pastura andiamo ad inserire in piccola quantità un pochini di spargiamo qua e là come vedete veramente pochi perché comunque basta già così e andiamo a mescolare il tutto e come vedrete una volta finita di mescolare si può già iniziare a vedere questi semini all'interno della pastura questa la renderà molto più attrattiva sia per le carpe che per gli amici allora a questo punto basterà andare ad inserire il sale il sale noi di solito andiamo a prendere questo misurino e ne inseriamo veramente poco proprio perché è già una pastura adatta di sugo proprio perché il sale in una pastura secca come vedete non andrebbe a sciogliersi quindi ne andiamo ad inserire veramente veramente poco come vedete sarà dai 5 ai 10 grammi di sale lo andiamo a spargere nella nostra pastura meglio 5 grammi di sale 5 grammi non superate i 5 grammi poi ovviamente in base alle dosi si andrà ad aumentare la quantità di sale arrivati a questo punto mescoliamo di nuovo ovviamente più la mescolate più verrà meglio poche parole questa è la nostra farina completata la nostra pastura completata ne abbiamo fatti 400 grammi ovviamente come potete capire piuttosto che andare a comprare la pastura già pronta si può creare con molta meno roba è una pastura che abbiamo già testato nel 2019 noi ovviamente durante quest'anno e negli anni successivi miglioreremo sempre di più e cercheremo di farla sempre meglio in poche parole questa è la pastura se la volete riprovare a fare a casa e magari più avanti provarla in pesca fateci sapere e mi raccomando andateci a seguire sul nostro profilo ufficiale quindi su instagram team underscore mugello underscore carpfishing dove noi pubblicheremo le varie storie nei giorni successivi con le date relative dei video e delle live che usciranno sul canale detto questo io spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate like iscrivetevi al canale e ci vediamo ad un prossimo video